ma bella ragazzi sono darchesbep e benvenuti nel mio canale questa qui è la vincita di alessandro gattoni detto gino 96 ale e comunque ehm la partita di prima era diciamo di prova anche se l'ho strabattuto 5 a 1 comunque adesso gli audio si dovrebbe sentire meglio scusatemi per la quali per la qualità dell'altra dell'altra partita di gioco.com e comunque eccoci qua su fifa un punto niente dai partiamo partiamo fornuto saluta saluta la gente ma che per l'altro ragazzo il buco la rega il presente della scorsa partita abbastanza più forte di emiglietto sicuro e di shadow più o meno sono alla pari ma diciamolo che è avuto culo ho avuto culo raga o poter perdere la finale io il cazzo che ti pare basta che ti spici che voglio fare il culo a nazionale mi sembra giusto che piglia il barcellona no decidi chi è ma perché è più ma io voglio con e cosa metto questa mette mochishta eh cazzo tuoi quello che metti cazzo buono bienta dai 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 questa qua diciamo che la partita ufficiale no questa anche se quella quella di prima quella ufficiale però mi chiede se ti si sente benissimo modificato l'audio non è male non è male anche canale eh mia mamma la messa posta per te oh che carino non gli manco mamma mi chiede mi chiede ho passato tutto se ne parte per barcellona ma è prima la prima per il titolo ma il porto per la prima non puoi fare c'è no che tipo il petto il petto il simulatore di calcio non è una cazzata potresti anche a 10 caparezza Sanchez gioco come l'hiss si guarda il ritorno di maicon non si passa dal leone non si passa turé 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 che cazzo fai turé ma che cazzo fai turé si no è negro de merda che pensa sempre a scopare con la fico quanti volte l'hai detto ma perché prima guardato strisciare notizie non hanno parlato della figa di vela figli della figa di vela figo di ballotelli ma basta ancora agnese no sto puffo de merda è un tanto il puffo è un'esercizio è un'esercizio è un'esercizio è un'esercizio è un'esercizio metto insieme il tutto ma la fa no la bella al pericolo il polo il che è che è un decisto grandissimo video della migliorata che non sta passando una palla non guardia alba non temporeggiamo un po' la se non è rosa però neanche il cartellino no che dio e c'è arte guardate la minchiata non c'è nessuno su l'azienda caccia richard maicon ma come puoi essere fuori chiuso la quadra la toccata tutta quattro oh mio dio te la toccata il tuo come fa il tuo gioco te la toccata il tuo gioco te la toccata oh mio dio ma poi a parte quello ma era nell'altro nella nella metà campo eh quindi se sei un uomo corretto dovresti darmi rigore e io secondo te sei un uomo corretto no sei soltanto un uomo di merda ah possono ripartire ma ma nooo nooo non cominciamo con la serie di sbagliare col cazzo nooo caro bett la difesa si 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 ma cosa fa nooo 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 ma io io sembra che lo faccia apposta sbagliarsi conti invece no io sono solamente sfigato no 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 ma che sei sfigato sei un perdente ah io perdente va bene sono pronto a risponderti con la battuta del perdente 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 il problema perdente c'è una squadra di tigli perdente guarda un buon più per modello a parte che è una squadra di quindi anche più che è una squadra di quindi anche più che è una macchina ma c'è un'età per i carri il gilio a a a a con poteca 12 1 2 2 3 3 5 7 10 4 9 9 9 9 9 9 lo sappiamo eh si lo sappiamo no 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 non ti passa no no c'è parte che mi importa non ti passa da nessuna parte si partitura parte negri merda mamma mia mamma mia no no è gol è gol wow vorrei dare la posizione mi scusi me lo tocchi la matosa non hai far gioco non hai far gioco eh 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 se volo marcellino che vuoi mettere il tuo gol ma non cazzo vuoi andare costa pulci merda india da letta un negro catamecto un talia cazzo te fazzurru sai ma che cazzo buttana 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 maestra maestra sviluppo la città attenzione attenzione ma tu o no ma tu o no tu o no metto il la tritola ma tu la tritola ma tu la tritola attaccanti di poco il cazzo che voglio guarda ok ma non si crede non si crede raga cioè abbiamo urlato un fuorigioco ah 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 ti giuro che la polva è tranquillo che eh ah io le ho prenderla di testa ah ok eh si va bene no tira la passaro ti 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 faccio sentire la presenza ma non è possibile riuscito a fare un po' tanti tt 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 messi che mi ha segnato tt 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 tk tt 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 se tt 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 ok mv va bene ancora guarda s'ammazzano tra loro fatti di questo tiro attenzione perchè per portiere la parola per il tuo cavolo parte dall'alentato che gli ha tirato non è finito tempo mamma mia ragazzi che chiusura vabbè eravamo in quattro in attacco la palla che arriva al vuoto no ahhh sto meglio di merda sto mangiando il cioccolatino al fondente ah siamo 1 a 0 diciamo che la partita è migliore di quella di prima metteci in ducolo ma dove va ma dove va ma dove va sto Alves ma dove va dove va dove va dove va dove va sto albissime da non è albissime cosa non è fuori gioco strano strano del mondo che non mi danno un fuori gioco e appunto infatti neanche cosa è approfittarle e non è non è neanche il piaccetto passaggio no però lui deve grigliare g picché di testa picchi di c vaga una banana una si passa non si passa sottotos pur noto mangi e to metto dopo dopo domani dovevo venire invece dove i per forza scuola no per me perchè perchè la vita è questa la vita ingiusta lui vuole che io vada a scuola perciò mi tocca ma non ci vuole draga cosa abbiamo domani la seconda ora non mi interessa ma cosa ti ho fatto con agüero cosa ti ho fatto con agüero di sapo che no 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 che cazzo ho fatto ma vaffanculo ma vaffanculo un ammazzare l'allenatore un po' anche incredibile l'allenatore ti ammazzano ti ammazzano vogliamo ammazzare l'allenatore ammazzare l'allenatore no no porti via ragazzo non mi piace la faccio andare in vacanza un'oretta prima giuro domani voglio fare un capo voglio fare il il ragazzo call of duty come quando faccio mercoledì con la teglia il ragazzo call of duty però mi sa che c'è supplenza domani eh oggi c'era? no, oggi non c'era eh è vero che uomo di merda questo non me lo ricordavo vabbè un'oretta no ma io mi sto facendo una sega mentale dal tiro che ti ho fatto di prima con ballotelli no? ballotelli e tira giù una legnata madonna stavo per prendere in crocio li ho presi tutti di cazzo ma è che ma soltanto che stavi per prendere un povero non è venuto allo stadio per vedersi la partita perché la città mamma mia mamma mia stu metti che calcio spessacolo attenzione metti metti mi salta 1 no 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 non lo fai non lo fai non lo fai scusate raga ma mi scappato una bestia no ci sono protestanti si protestano se qualcuno qua dire di dire protestanti si può protestare chi obiettivo in realtà in realtà no raga guardate lo stoppe di Aguero eh il cheache ampiche noann il vecchietto il vecchietto no 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 si si bravo Messi va, salta il pufo di test ah ok ah ok non ci credo raga ditemi che non ha culo d'arche disgul l'uomo fai qualcosa la vita di far qualcosa un testo libera di far qualcosa messi di merda ora che prima devo un cazzo vorrebbe il kinect che regnata non è possibile ma perchè è andato in due perchè perchè per il lavoro di film di giagiro oltre a metterlo oltre al signor alessandro gattoni chiametto d'opera mia mamma mia scusi è che sono un'altra persona dalla prima partita di oggi eh te modificati giocatori non io perchè oggi ti ricordo un 4-3 come parziale eh non so se ti ricordi che io stavo usando il Chelsea vabbè che cazzo vuol dire non ti credo come pensano uno contro uno sei una merda hai troppo la mamma e adesso gli è venuto un trauma cranico e c'è un giocatore in mezzo al campo che è lì che si fa una flippa eh cerca di restare in campo ma un patinato non lo dico non lo dico non lo dico è un problema legamenti in pittà per me e ti raggiungo a regnata cazzo cazzo la raga mancano il petto minuti per campare non lo dico la recerca o mamma come fa essere altro no e dai non ci credo ma basta basta devo chiedere aiuto al papà alla madonna a Giuseppe Maria cosa devo fare devo chiedere aiuto al bue alla zinello non manca più nessuno eh madonna Eva che cazzo ho fatto raga cosa se mi usciva se mi usciva dove vi farmi oh eh che cazzo di cosura ti ho fatto ahahah no ma te l'hai vinto nel portiere ahahah ma come sto a te la stocca e la stocca e la stocca e la stocca e la stocca ma no raga io chiedo c'è di giustizio al giudice mamma mia che partita emozionante una balla della madonna grande grande eh raga se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace come sempre un commentino allora fa e se volete e poi te devi girare che hai detto la porta e tutetevi cercare e se volete iscrivetevi al mio canale che ci saranno molte partite di pipa 13 programmati in futuro no ma ti ricordi ma te la via bravo dai ragazzi mettiamo al prossimo video ah si bene io pensavo che era finita invece vabbè dai che ti ricordi ma vi è finita anche un filo che c'è 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 un filo